Riqualificare l'area ex Acna di Via Tramello investendo in verde pubblico e in parcheggi a servizio dell'area nord della città. Questo è l'obiettivo del Comune di Piacenza che ha pubblicato il bando di gara per il progetto di fattibilità per quello esecutivo e per l'intero pacchetto di servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti all'intervento di risanamento ambientale dei 36.500 m2 che fino agli anni 80 erano sede di una fabbrica chimica per la produzione di coloranti per l'industria tessile. Un appalto, quello di progettazione, del valore di 320.000 euro. L'intervento nell'ex Acna rientra nel programma di rigenerazione dei cosiddetti siti orfani, luoghi ambientalmente compromessi i cui proprietari non sono, per ragioni diverse, nelle condizioni di procedere alla bonifica che passa quindi nelle mani dello Stato e degli enti pubblici. Per l'intervento è previsto lo stanziamento di 9 milioni di euro provenienti dalle risorse del PNRR. Si tratta complessivamente di un'opera di analisi del rischio di un piano di caratterizzazione della progettazione ed esecuzione della bonifica della falda con asportazione del rifiuto interrato e decontaminazione al 100% del suolo. Sulla carta dunque, entro due anni e tre mesi, l'ex Acna verrebbe restituita bonificata alla città per essere destinata, in base alle indicazioni emerse dal Comune negli ultimi mesi, in parte a verde pubblico e in parte a parcheggi a servizio dell'area nord-occidentale della città e in particolare del polo ospedaliero di Via Taverna, che rimarrà operativo ancora vari anni prima della programmata realizzazione del nuovo ospedale in area periferica. Infine, è intenzione della giunta Tarasconi ricavare nell'otto di Via Tramello anche un'area sosta per i camper.